Continuiamo dal Santuario di Santa Maria delle Grazie, di cui vedete la riproduzione del quadro in maniera così solenne. Continuiamo il nostro pellegrinaggio in questo mese dedicato alla Madonna e lo facciamo con e sui passi della devozione mariana di Papa Francesco. Ricorderemo bene quando, il giorno dopo della sua elezione, Papa Francesco si reca nella Basilica di Santa Maria Maggiore, che è il tempio mariano più antico d'Occidente, dove vi è conservata e venerata l'immagine della Salus Populi Romani, cioè della Madonna Salvezza del Popolo di Roma. è andato lì per mettere sotto il manto, potremmo dire, della mamma celeste il suo pontificato. E lì va ogni qualvolta inizia un suo viaggio apostolico. Prima di partire si reca dalla Madonna per ringraziarla, per mettersi sotto la sua protezione. In una visita successiva, Papa Francesco dirà queste parole nella sua Omedia nella Basilica di Santa Maria Maggiore. Ella, cioè la Madonna, ci aiuta a crescere, ad affrontare la vita, a essere liberi. Quindi questa mamma ci aiuta a crescere, ci aiuta ad affrontare la vita, ci aiuta ad essere liberi. Crescere. Umanamente, cristianamente, alla seguella del figlio. Il combito di una mamma è quello di aiutare il figlio a crescere, insieme chiaramente al padre. E Maria, che è la mamma di Gesù e della nostra mamma, ci aiuta a crescere come figli del figlio. Ci aiuta a crescere guardando il figlio. È importante nella nostra vita di cristiani, quindi nella nostra vita spirituale, ma anche nella nostra vita umana, avere come punto di riferimento questa mamma. Nei o nella vita dei cosiddetti atei, o diversamente credenti, o anche di altre religioni, mi ha sempre particolarmente colpito il fatto che, dinanzi alla Madonna, tutti si fermano, tutti si bloccano, tutti hanno per lei una particolare e, in alcuni casi, misteriosa venerazione. Perché, dinanzi alla mamma, ogni muro, anche ogni certezza razionale, anticristiana, antidio, decade. Perché la mamma aiuta a crescere tutti. La mamma ci aiuta a crescere e poi ci aiuta a essere liberi, che è lo scopo di Gesù. Gesù è venuto per guarirci e per renderci liberi dal peccato, dal nostro egoismo, renderci liberi per essere felici. E in Maria abbiamo una madre della libertà che è famosa. Proviamo, anche noi, a prendere la sua mano e a farci aiutare a crescere, a farci aiutare ad affrontare la vita con tutte le difficoltà, ma anche nelle gioie. E solo così potremmo essere liberi e felici. Ci vediamo domani. Padre Pio TV Dritto al Cuore. Ciao. Ciao.